Perché Capuano ha dimostrato col cuore e con la tasca di voler allenare l'Arenzo. È stato umile, nonostante il suo profilo di prima divisione importante, perché ha ottenuto salvezze incredibili con squadre. Lui con squadre costate pochissimo, a me personalmente mi ha battuto spesso. Però quando c'era da vincere nei direttanti ha vinto. Poi la carriera dell'allenatore ha fatto tutto di up and down, però ha mostrato veramente, non solo dal punto di vista economico, ma dal punto di vista dell'atteggiamento. Ripeto, noi abbiamo contattato quattro allenatori con il Master e poi la proprietà ha deciso di puntare su lui per una serie di motivi. Io propongo poi la società che risponde. Mi dice i pro e i contro di questa scelta. Ma i pro e i contro ci sono con tutti. I pro e i contro ci sono per tutti. Magari quando Del Neri è andato alla Juve e pensavano di fare un ciclo di tre anni è durato pochissimo. Ci sono un mare di... Mazzarri va all'Inter e non riesce a fingere tre partite di figlio. Nel calcio succede tutto e il contrario di tutto. Noi, io non voglio fare proclami, io voglio ribadire un concetto. La mia ricetta è lavoro, lavoro, lavoro. I risultati arriveranno. Vi faccio una domanda che ho fatto anche al Presidente prima. Zavaglia non è contento, ha detto che non sono scelte mie queste. Si sono raffreddati i rapporti di Vettore oppure no? No, Zavaglia mica è un dipendente dell'Arezzo. Zavaglia è un amico dell'Arezzo. Poi che abbia detto pubblicamente che non è contento, ha 70 anni, è una persona per bene, una persona esperta. Ma ripeto, Zavaglia può dire quello che vuole. Ha detto Capuano, si parte dalla difesa a tre, si fa il nome di Montervino per esempio tra i possibili acquisti. Di Francesco. Ecco, che cosa ci può confermare se ci può annunciare qualche giocatore che sta per arrivare? No, no, io, Francesco è stato il capitano del Napoli della Rinascita e il capitano della Salernitana scelto da me per la Rinascita. Ci siamo incrociati, c'è grande stima tra me e Francesco e anche amico del mister. Ma da qui a dire che sarà giocatore dell'Arezzo ne passa. È ovvio che i miei rapporti con l'Otito e con la Salernitana, con Mezzaroma sono ottimi. Lui a scadenza, penso che non li rinnovino. È una personalità forte, è un leader ed è ancora indegro. Ha fatto 30 partite in C1 a Salerno. È un ragazzo di spessore. Però da qui a dirvi sarà giocatore, io a Ciccio ci sto pensando. Un'ultima cosa, può confermare prima gli under e poi gli over in lista di più risorse? Sarà un mercato difficilissimo, epocale, perché tutti gli under si aspettano la Serie B e la C1. Quando capiranno che non c'è la C2? Quindi saremo molto lenti. Bocca al lupo. Crebbi il lupo.